Allora, rifletti un attimo. In questi ultimi anni tu hai falsificato molti documenti per proteggere Nemo. Per cui se partisse un'inchiesta, tu saresti l'unica a pagare. Quindi che cazzo devo fare? Scappare all'estero? Farti degli amici più in alto di Nemo. Ecco, magari il nuovo sindaco. Maresca in crisi. Non verrà rieletto. E allora? Verrà sostituito con l'ennesimo burattino agli ordini di Nemo. A meno che non salti fuori un nuovo nome. Un nome non manipolabile ovviamente, senza scheletri nell'armadio. Qualcuno come te, amore mio. Io? Sì. Era il tuo sogno nel cassetto quando ti ho conosciuto, sbaglio. Sì, ma adesso sono la compagna nel braccio destro di Bandera. La gente è storcere bellato. E se ci lasciassimo? Pensaci un attimo. Diventeresti la palatina di Levante. La donna che pur di chiudere con i bandera ha sacrificato il suo amore. Come la vedi? Certo, quando vuoi sai essere più diabolico di me. Beh, ti ricordo che l'idea di puntare Sonnino per entrare in famiglia è stata tua. Prima o qua dovremmo comunque farlo, quindi... Rimane il problema, Carlo. Mi hai detto tu no che sta per concludere un affare con il milanese. Se dovesse andare bene, Nemo potrebbe scegliere lui. Per quello ho già qualcosa in mente. Sarato. Se dovesse andare bene. 'veuto. Grazie a tutti.